Don Alessandro Minutella, io ho intervistato varie volte, più che interviste sono state conversazioni, comunque l'ho incontrato tante volte. L'ultima è stata domenica 8 ottobre, il giorno dopo che in un raduno internazionale di Radio Domino Nostra ha radunato 3500 persone a Bologna. È stato un evento importante perché arrivavano da tutto il mondo, nessun giornale se ne è occupato, si occupano di lui soltanto quando fanno incursioni, le televisioni per screditarlo. Eppure quello che sta facendo Don Alessandro Minutella è di vitale importanza per la spiritualità e per la Chiesa, quella vera. Fra l'altro nonostante Bergoglio lo abbia scomunicato due volte e lo abbia ridotto allo stato laicale, lui si è presentato con l'abito talare, sfidando, lui riconosce come Papa Benedetto XVI. In questa conversazione, dove peraltro interviene anche padre Vincenzo, un dominicano molto acceso, in questa conversazione si parla di tante cose, di spiritualità, di Chiesa, si parla addirittura, lui parla di Flavia Vento che sostiene di aver visto la Madonna e poi c'è l'importanza della preghiera. Fra l'altro lui mi ha regalato il suo rosario, che sta qui accanto al mio computer dove monto tutte le interviste dove lavoro e mi ha regalato anche l'ultimo libro che ha appena scritto il Leone di Alessandria, su Sant'Anastasio, che è quello che combatte l'arianesimo, quindi l'eresia. Ci sono molte similitudini tra questo Leone di Alessandria e il Leone di Carini perché è di Carini, Don Alessandro Minutella. Abbiamo parlato di extraterrestri, abbiamo parlato, alla fine c'è un interessante confronto, un interessante confronto su questo argomento. Noi scegliamo il nostro compito prima di nascere o Dio sceglie per noi in base le nostre capacità. Allora, prima dell'intervista, che trovo molto viva, molto bella e importante, ho scelto di mettere la sigla iniziale con cui c'è stata la diretta, vista già da centomila persone, credo di questo evento di Bologna, dove ci sono peraltro dei personaggi, delle foto di personaggi, di santi, e io ho chiesto a Don Alessandro Minutella all'inizio dell'intervista chi sono tutti questi santi o queste figure nel quale lui si identifica. Poi dopo ho scelto di mettere l'ingresso dei sacerdoti, perché non c'era solo Don Alessandro Minutella, ma c'erano i sacerdoti che arrivavano dalla Germania, dalla Slovacchia, da tanti posti, e poi dopo ci sarà anche l'ingresso della Madonna, quindi diciamo che questo video inizia con la sigla, poi c'è l'ingresso di Dio sceglie, il discorso iniziale, una piccola parte del discorso iniziale che ha fatto Don Alessandro Minutella in questo evento del 7 ottobre, di sabato 7 ottobre, e poi c'è l'intervista. Don Alessandro Minutella 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 Grazie. 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 Ed è sempre lei che ci condurrà, come a Lepanto, alla vittoria. Noi siamo oggi qui come il popolo cattolico che ostinatamente è rimasto fedele fino in fondo all'indimenticabile Papa Benedetto XVI. Grazie che ora, certamente dal cielo, insieme a Giovanni Paolo II, ci incoraggia e ci benedice. Non c'è dubbio che entrambi sono qui con noi molto più di quando lo erano fisicamente. L'uno, Wojtyla, con il suo carisma mariano prorompente, l'altro, Benedetto, con il suo stile elegante mite. Ci guardano e ci benedicono e dal cielo ci incoraggiano. Benedetto XVI non si è dimesso. Si è relegato in sede impedita a norma del Canone 412 del Codice di Diritto Canonico. Papa Benedetto ha consegnato il ministerium, ma il munus lo ha portato con sé. Così la falsa chiesa ha potuto conquistare il trono, la sede, le strutture, le chiese, le parrocchie, le associazioni, gli oratori, i santuari, ma non hanno potuto mettere le mani sul munus. E noi diciamo oggi grazie Benedetto XVI. Grazie a tutti noi, custodendo l'Ufficio Petrino, dalle mani degli aggressori, dalle zampe dei lupi. Noi, oggi, 7 ottobre, anno del Signore 2023, mentre a Roma si sono dati convegno i corsari della fede, noi qui da Bologna diciamo no al corso eretico di questa falsa chiesa che si è assestata con il conclave invalido del 2013 dopo aver costretto Benedetto XVI alle dimissioni. loro hanno le strutture, la sede di Pietro, ma noi, figli e cari, qui siamo per dire che abbiamo la stessa fede di Pietro e dei suoi successori. Che ce ne facciamo della sede petrina senza la fede? Niente. Non è forse più importante la fede di Pietro più che la sede di Pietro. e chiediamoci, dov'è oggi lo Spirito Santo veramente? È a Roma, tra le tavole rotonde degli accoliti di Satana che lavorano al Sinodo della Vergogna o qui a Bologna? Ieri quanti ce n'erano? Circa 4.000? No, 4.000 non ci si è arrivati. Sei onesto? Sai che normalmente uno aumenta? No, non è grazie. Secondo me, allora io mi intendo, minimo ce n'erano 3.500. 3.500 sicuramente. Eh, allora ieri tu hai fatto un raduno del piccolo resto cattolico a Bologna. Internazionale. Internazionale. Allora, tanto Bologna, tu lo sai cos'era Bologna? Era la sede settentrionale dello Stato Pontificio. Eh? Eh sì. Intanto mi sorprende una cosa. Quello che adesso è in Vaticano, ti ha detto che tu non puoi portare l'abito talare, ma tu ce l'hai. Eh, intanto quello che siede in Vaticano non è il Papa. E questa è la battaglia che stiamo affrontando. E poi i fedeli me l'hanno chiesto e quindi siccome le condanne non sono valide e io non l'ho indossata la talare perché c'è un regime concordatario con lo Stato, sì che tra ieri e oggi se proprio devono farmi la multa la paghiamo, la gente è pronta a pagarla, però volevano che ieri e oggi io la indossassi. Però non puoi recitare messe, questo ti manca. Non l'ho celebrata la messe. Sì lo so, ma questo ti manca? No, perché io la celebro privatamente. Ah, fantastico. Allora, ieri è stato incredibile. Io volevo intanto parlare di alcune figure. Tu ieri, cioè nella sigla, perché io mi sono visto tutto, ho visto... Non ci credete, non è vero. No, come no, guarda. È così impegnato sta pensando a me. No, allora guarda. No, l'avrai vista, ma non tutta, non ci credo, è durata troppo. No, non l'ho visto tutto, perché dopo ti parlerò di un convegno dove ero ieri, perché tutto sta cambiando, il mondo sta cambiando dei livelli di una velocità che tu non hai idea. Sono d'accordo. Allora, io ho visto nella sigla queste figure. Chi è lei? Ah, questa è una grande santa, molto nota al popolo cattolico, Santa Gemma Galgani, morta a 24 anni. Bene. Miss Santità è chiamata. Miss Santità. Sì, perché tra le santa è la più bella. Questa chi è? Quello è il cardin... questo al sinistro. Sì, tu questi tre. Sì, sì. Allora, quello a sinistra è il cardinale John Henry Newman, teologo di grande levatura, molto amato da Benedetto XVI. E quello giù è un sacerdote santo, anche lui, Annibale di Francia. Sì. E padre Pio? E vabbè. Padre Pio? Ah, perché sai, tanta gente mi ha chiesto chi sono questi. Tu stai anticipando questa richiesta. No, anticipando, realizzando questa richiesta. Certo. Tantissima gente chiede chi sono. Se tu mi metti nella sigla questi, significa che sono dei punti di riferimento. Esattamente. E visto che stiamo perdendo tutti i punti di riferimento, è giusto darne di quelli... Esattamente. Quella a sinistra è un grande eroe del Novecento, Edith Stein. Ne avrai sentito parlare, filosofo, filosofa, letterata, studiosa, che poi... ebrea. Ebrea, che poi si convertì al cristianesimo, ricevette il battesimo, si fece suore, andò a finire nei campi di concentramento per i rastrellamenti voluti da Italia e in Olanda. Quello sopra è Bartolo Longo, il fondatore del santuario di Pompei. Era avvocato pugliese, satanista, e poi si convertì e fondò il santuario. E giù c'è uno dei santi più giovani, Gabriele della Dolorata. È un santo passionista, sì, sì. Ne avrai sentito parlare. Ma sì, perché sai, io, chiamandomi Gabriele di nome... Appunto, appunto. Questo? Questo è Massimiliano Maria Kolbe, anche lui morto nel campo di concentramento di Auschwitz. Si offrì al posto di un detenuto, perché un detenuto era fuggito via, e allora il Lagerfuehrer scelse dieci che dovevano morire. L'ultimo che fu scelto implorò, piangendo, che voleva essere fatto salvo, perché aveva famiglia da raggiungere. E questo frate piccolino, che era stato in Giappone in giro per il mondo, si è fatto avanti e ha detto, mi offro io al suo posto. Il Lagerfuehrer, che poi sopravvisse, andò a Piazza San Pietro, comunque, e disse, ma tu perché fai quello? Perché sono un sacerdote cattolico. Li mise nel bunker della fame. Massimiliano Maria Kolbe doveva morire, uno dei primi morì per ultimo. Purtroppo, poi le ceneri furono sparse, come sai, per via delle camere a gas. Certo. Beh, padre, papa Luciani. Papa Luciani, papa del sorriso. È stato, diciamo, uno di quelli fatti fuori, praticamente. Beh, lui sicuramente è quello che, saprai che la Santa Sede non afferma mai apertamente questa cosa, anzi la nega, però non è stata resa nota l'autopsia, ci sono delle situazioni. Poi, sai, io seguo molto la dimensione mistica, lo sai questo. Il teologo Fonbaltasar, che non è l'ultimo arrivato, aveva una mistica che seguiva, che gli anticipò che sarebbe stato avvelenato papa Luciani. Il più piccolo fra tutti, si chiama José Lito, José Ruiz, un bambino di dici anni messicano, il Cristeros, c'è il famoso film, lui, c'era il regime massonico in Messico, e lo presero di mira, morì martire, lo fucilarono. E questa è Bernadette Subiru, la veggente di Lourdes. La professore veggente di Lourdes, sai che in questi giorni c'è una polemica che monta contro Domino Nutella, una delle tante, perché... Sì, ma perché ti stanno attaccando? Mi piacere. Non me ne sono accorto. Sì, ma la sai cosa interessante? Che fingono di ignorarmi e aspettano, come dire, il vulnus per colpire. Siccome nei giorni scorsi ho letto che Flavia Vento, usiamo il condizionale, avrebbe detto di aver visto la Madonna in campo da golf, e allora mi sono venuti addosso perché dice anche, lo sapete, di vedere gli alieni e quelle cose, e quindi non può vedere la Madonna. Hanno deciso loro, i tradizionalisti hanno deciso. Allora la Madonna ora e Nostro Signore passeranno da loro per chiedere a chi devono apparire gli alieni, a chi devono apparire la Madonna, a chi devono... Capito? Nostro Signore con i tradizionalisti non è più libero di decidere. Ma tu parli di Flavia Vento, non so, lo so. Allora, devi sapere che ho fatto un tweet, adesso lo cerco, ok? Perché? Perché la coinciden... Sai che io noto molto le coincidenze, ok? Nel senso che noi siamo governati dalle coincidenze, cioè noi dobbiamo stare molto attenti perché le coincidenze io ritengo che siano dei messaggi che arrivano, ok? Noi parliamo di deo-incidenze, infatti. Deo-incidenze, esatto. Allora, coincidenze, ok? Accanto al mio tweet, quando io ho postato un mio tweet dove dicevo che padre Vissarione, la Bati Vissarione è qui per la battaglia finale con l'anticristo, tutto accadrà, sta cercando... Sì, ricordo questo. E dice, la Bati Vissarione è qui, io parlo della Bati Vissarione e della Madonna che ci salverà e sotto c'era il suo tweet che ha visto la Madonna. E io ho postato questo qui, chiaramente mi hanno infamato dicendo... Ma perché non dovrebbe vedere Flavia Vento la Madonna? Chi la devono vedere? Non so io, questa è una cosa veramente che mi ha fatto arrabbiare, ma non interverrò, sto parlando con te di questo, non so se lo manderei in onda, ma io sui miei canali non voglio avere a che fare con questi provocatori che cercano, dice il mio gemello, lasciali perdere, ormai tu hai un risalto e loro lo cercano attraverso di te provocandoti e io non lo faccio. Ma c'è una regola, cioè ad esempio c'è un libro che ti invito a leggere, I quattro accordi, io ti ho già invitato a leggere... Sì, sì, hai ragione, me lo ricordi. Ma tu non l'hai letto, vero? Non ce l'ho neanche, me lo potevi portare. È piccolo, è molto piccolo. Allora, i quattro accordi, mi raccomando, sto dicendo con quella che si occupa di te, ma alla fine, perché dice che se tu nomini la negatività gli dai forza. Sì, esatto, esatto. Ti avevo già detto di non nominare la negatività, ma vedo che tu lo fai, ma lo faremo anche in quasi... Ma perché in questo caso ottiene risultati positivi. Ieri eravamo 3500 e tanta gente non ha potuto essere presente perché il taglio è anche di persone abbastanza avanti negli anni che seguono con trasporto giovanile questa battaglia, però per ovvie ragioni non potevano essere presenti. I tre pastorelli di Fatima. Altri che hanno visto la Madonna. Sì, sì, ma chissà se però i tradizionalisti li hanno esaminati, magari. Ah, certo, però tu hai nominato ieri nel tuo discorso iniziale le profezie di Fatima. Cosa dice Fatima? Il famoso terzo segreto di cui nessuno vuol parlare, Red. Anche grandi uomini come Voitigua. Ma Benedetto lo ha superato a Voitigua in questo, perché Giovanni Paolo II ha accennato solo qualcosa conoscendolo. Non ha mai voluto dirlo del tutto. Vittorio Messori dice che l'ha fatto sapere attraverso altre vie, ed è vero. Invece Benedetto XVI nel viaggio verso il Portogallo nel 2010 disse che riguardava l'apostasia dalla fede. Che cos'è l'apostasia? Eh sì, lo stavo dicendo perché capisco che per molti che ti seguono magari... L'apostasia dalla fede è un cambiamento. I cambiamenti ci vogliono, però non devono smentire l'essenza di qualcosa. Anche noi cambiamo, però rimaniamo noi stessi. Io quel che sono ora a 50 anni non ero a 30, e quello che sono a 50 anni però sarò a 70. Lo dico prima per i nemici, perché se no... Allora, c'è un cambiamento però che vuole cambiare l'identità stessa, e questo non è permesso. E questo la Madonna l'aveva annunciato a Fatima. Benedetto XVI lo dice chiaramente nel 2010. Ok. E riguarda la situazione che stiamo vivendo. Dopo ne parliamo. A sinistra Faustina Kowalska, suora polacca contemporanea di Giovanni Paolo II, infatti l'altro grande polacco è sopra. E sotto José María Escrivá de Balaguer. Che non so chi sia. È un sacerdote spagnolo fondatore dell'Opus Dei, che però avrai sentito nominare. Questo è Don Luigi Orione, amico di Padre Pio, fondatore di una famiglia religiosa. Ah, questo gli ho detto non lo farà vedere perché è uno dei meno conosciuti, invece ti ringrazio. Questo nessuno, sono certo, lo sa forse neanche di quelli che sono qui con me. Questo è il cardinale, incredibile la sua vita. Josef Minsenti, ungherese, perseguitato dal regime comunista sovietico, che fu trattato in un modo incredibile. Gli fecero, come si chiamano quelle cose, le sevizie. Sì. E lo costruisero a scrivere che ritrattava tutto. E lui per salvarsi la vita scrisse, sì ritratto, però poi con un puntino invisibile, quasi scrisse S.C. Poi dopo anni, quando finalmente fu liberato, gli disse, ma tu sei un apostato, ti hai smentito, andate a prendere il documento. L'ho preso, S.C. punto, sub, costrizione. Pensa che io ho fatto la stessa cosa in un ricatto di un contratto che mi hanno fatto, quando mi volevano eliminare da Video Music. All'ultimo momento mi hanno detto, stavo per andare in onda, che dovevo firmare un contratto capestro, dove rimettevo 7 milioni ogni puntata. Io non lo volevo firmare, ma c'erano già tutti gli artisti, la gente aspettava la mia diretta. Allora l'ho firmato, però se andate a vedere quel contratto c'è scritto S.C.A.Q.R. Come la stessa cosa, che sono costretto a subire questo ricatto. Hai capito? Mamma mia. E allora un nuovo Minze dice, e non era il regime comunista, ma insomma. Insomma, i metodi. Siamo comunque in un regime. Non erano sevizie fisiche, perché oggi si va avanti con le sevizie mentali. E tu lo sai. A questo è, ma devi dirlo, tu chi è questo? Secondo te chi è, se te lo chiedo? Chi è il mio mentore, il mio maestro di... Ratzinger? D'altro, Fonbaltasar. E chi è Fonbaltasar? Scandalizzati, dai. Fonbaltasar. Sono ignorante. Non puoi essere amico mio se non conosci Fonbaltasar. Beh, ma adesso sono amico tuo perché mi racconti Fonbaltasar. Mamma mia, come l'ho fatto, non è giusto. Perché lui è buono, il Red è un uomo buono. Chi è Fonbaltasar? È un grande amico di Ratzinger. Sì. Ha salvato Ratzinger dall'espire del modernismo, del progressismo teologico. Se abbiamo avuto Benedetto XVI, è anche merito di questo teologo elvetico, svizzero, che ha un merito straordinario. È semplicemente un teologo. Non c'è più adesso. No, è morto da anni. Pensa. Al polso della mistica. Se i tradizionalisti permettoni. Lui seguiva una donna che aveva le stibate come padre Pio. era protestante, poi si convertì al cattolicesimo. Lei gli disse, negli anni cinquanta, il Red è tutto documentato e io, non invento nulla. Tutto documentato. Dice questa donna che si chiamava Adrienne. Senti, padre Hans, quando tu, quando ti valorizzeranno nella chiesa, perché tu sarai perseguitato, non ti capirei, infatti non andò al concilio, quando ti valorizzeranno, preparati che staremo per venderti a prendere. Adrienne morì nel 66, o nel 68. 66. Nell'88, Giovanni Paolo II, dopo una vita trascorsa ai margini, perché era un uomo autentico, e te sai che gli uomini autentici difficilmente amano il potere, quando lo raggiungono o se ne vanno o li fanno fuori. Per questo qui ora ci vuole una rivoluzione, di un potere senza potere, ma poi magari ne parliamo. Giovanni Paolo II, su indicazione, certamente Grazinghe, lo fece cardinale. Quando gli telefonarono per dirgli Hans Urs von Balthasar, sei stato fatto cardinale, sai è una notizia che ti deve rallegrare, impallidì e si chiuse in stesso, due giorni prima della porpora a Piazza San Pietro è morto. Perché non voleva quello? Non lo voleva. Infatti un libro si intitola così, Morì per non diventare cardinale. Charles de Foucault, Monaco, era un soldato dell'esercito francese, della legione francese, poi fu folgorato a Parigi, lasciò tutto, andò a vivere nel deserto del Sara, fu ucciso dai Tuareg che lui invece amò e protesse, ma uno di loro, un predone in pieno deserto lo fece fuori. E quelle due sono due ragazze, possiamo chiamarle ragazze straordinarie, Teresa di Sie, sopra, e sotto Chiara Luce Badano che invito tutti a conoscere, una dei nostri tempi, una ragazza toscana, credo che fosse, morta negli anni 90, giocatrice, una bella ragazza, figlia udica, con un futuro tutto promesso, un tumore osseo che lei rifiuta all'inizio, rifiuta come è ovvio, sa che all'orizzonte c'è la morte, ma fa un cammino e alla fine addirittura questo cammino la trasfigura, muore vincendo direi. E questa è siciliana, si chiama Giuseppina Suriano e anche lei una mistica, morta a 35 anni. Oh, questo non l'ha mai fatto nessuno, eh? Ma, beh, madre Teresa, la matita di Dio. Hai notato che Bergoglio non la cita mai, lui che parla dei poveri? Ma tu sai che io ero amico di Monsignor Danzi. Te l'hai incontrata forse? No, 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 l'ho visto in una manifestazione, però amico di Danzi, no? E mi disse che, lui gestiva il Vaticano, e mi disse che madre Teresa volle che Giovanni Paolo II facesse un rifugio per senza tetto dentro il Vaticano. Sì, sì, sì. Lei dice le devi fare qui dentro. Sì, sì, ha fatto, ha fatto, infatti è così. Perché, dice, dovete vedere voi qui dentro la situazione. Beh, non è proprio dentro il Vaticano, però è nella... E anche perché io ho fatto una foto che sono rimasto, perché ho visto proprio senza tetto con il sfondo il Vaticano. Tutti che dormono con il sfondo proprio lì, lì accanto il Vaticano. Però la storia di madre Teresa è incredibile, quello che ha fatto a Calcutta, quando una donna stava morendo rossa dai topi perché lì morivano così, adesso non so se è più così. Lei andò, non era cristiana a proposito di questo, no? Chi ha forti convinzioni non teme il confronto perché la porta con sé la propria convinzione, no? Comunque, quella gli disse prima di ispirare che lei la pulì, la sistemò per farla morire. Ma perché fai questo? Perché il mio Dio si chiama amore, ha detto madre Teresa. Quella è morta gioiosa. Ha detto ho vissuto così a lungo e muoio sapendo che esiste l'amore. Bellissimo. Lei disse un'altra cosa. Anche io mi emoziono. Lei disse un'altra cosa a proposito di quello che ti raccontavo prima. Lei disse non chiamatemi mai a fare una manifestazione contro la guerra. Vedi? Negativo. Chiamatemi per una manifestazione per la pace. Esatto. Quindi vedi i quattro accordi che ti dicevano. Era una donna molto forte, ha subito anche molte polemiche dentro il Vaticano. Però i pontefici... Paolo VI per primo. Perché si parla molto del legame tra madre Teresa e Boitiwa. Che c'è, è vero. Però il primo a capirla è stato Paolo VI. Paolo VI ha regalato a lei la propria vettura, mandava dei fondi, chiese ai vescovi indiani di incoraggiarla nella sua opera. Ok. L'ultima cosa. Mi stupisce questa immagine perché c'è la Madonna con delle guglie di chiesa che non è cattolica. Cosa vuol dire? Quella è la Russia. Eh appunto. La terza Roma. E perché? Perché ci sono profezie che dicono che la terza Russia invaderà l'Europa. Allora molti la intendono come un'invasione bellica. Te sai che in questo momento c'è un cortocircuito, lo sapete anche tutti voi, è interessante dirlo un passato circa la guerra ucraino-russa. Cioè sembrerebbe che a quanto pare non arrivano più, non c'è più disponibilità perché diciamo il governo americano è in impasse quindi sembrerebbe che Biden non sia più disposto ad aiutare. E io questo l'ho sempre pensato Red. Che prima o poi quello lì come si chiama il premier ucraino venisse il ballerino scaricato. Ho la sensazione che si stia arrivando a quello e che la Nato perché ieri Putin non so se sapete ha detto non invadete il territorio russo perché abbiamo e ha mostrato le immagini abbiamo armi di distruzione che possono raggiungere ogni angolo del pianeta. Sai di fronte a questo forse gli americani non se lo aspettavano la Nato neanche stanno a quanto pare indietreggiando ma se indietreggiano l'orso russo non se ne sta fermo. Nel frattempo hanno hanno aggredito diciamo la nazione più vicina ai Stati Uniti che è Israele. Esattamente. Siamo in un momento particolare. La Russia nello scacchiere geopolitico. Io non sono un esperto quindi chiudo subito. Ma anche perché non leggono la storia. Nella storia chi ha provato di invadere la Russia? Esatto. Napoleone, Hitler che fino hanno perso? Tutti. E non c'è due senza tre Red. Esatto. Mi sembra che siamo a quel punto lì. Con la Russia non si scherza. C'è una frontiera che non è solo geografica. È mistica. È mistica. Oltre le steppe ucraine per avanzare in direzione di Mosca chiunque si è fermato. Ma non so se tu hai letto delle dichiarazioni di Putin che parano che il mondo occidentale sta potenziando l'anticristo. Sì appunto. Sembrava un prete quando parlava. Sì sì. Questo lo contestano come sai. Anche figure. Mi spiegabilmente non lo capisco questo. Mi spiegabilmente padre Livio Fanzaghe direttore di Radio Maria che ha un enorme seguito per esempio contesta questa questa lettura mistica o spirituale di Putin. Perché mai? Non è possibile che sia autentico. Certo è uno è uno statista quindi le armi se le deve adoperare le adopera. Voglio dire la guerra è guerra per carità. Però voglio dire c'è una visione che è merito del patriarcato di Mosca e il patriarca Kirill che ha detto che lì da quelle parti sono arrivate le richieste dell'ideologia arcobaleno. I russi non la vogliono e possono essere liberi di non accettarla nel rispetto naturalmente delle libertà individuali. che benedici o padre al grido della fe. Noi voglian Dio che è nostro padre. Noi voglian Dio che è nostro padre. Noi voglian Dio che è nostro padre. Noi voglian Dio che è nostro re. Veniamo a quello che è successo ieri che è magico. Ieri tu avevi persone che venivano dall'Australia, Brasile, Romania, Svizzera, Francia, Canada, Spagna, Austria, Albania, Germania, Malta, Belgio, Panama. Piccole delegazioni ma c'erano. Cosa sta succedendo? Credo che ti do una lettura storica e una mistica soprannaturale. Quale vuoi delle prime? Storica poi mistica. Storica. Perché è sempre meglio finire con quella più importante. Certo. Storica. È evidente dopo anni che il coperchio si è rotto, il giocattolo si è rotto. Questo bergoglio Papa Francesco, il Papa delle Riforme, ha stufato gli italiani e non solo, come aveva già fatto in Argentina. Io lo dico dalle prime volte. Non ci va in Argentina, Red. Non lo vogliono. Si pare anche che lui fosse per i colonnelli. Cioè le madri coraggio. Io sono stato lì, ho visto il dolore di queste madri. Sono stato lì, ho potuto parlare con gente come avrai fatto tu. Esatto. Quindi sì. Sì, non lo gradisco. Questa è quella storica. Questa è quella storica. La gente si è stufata di bergoglio. La mistica? La mistica è che noi stiamo, io, se posso parlare di me, sto pagando un prezzo non irrilevante, anche se grazie a Dio lo gestisco perché ho una forte visione di fede e perché non mi sento. Vorrei essere con te, per l'amicizia che ci lega, chiaro. Io ho i miei limiti come tutti, ma io non è che mi sento sostenuto, spalleggiato dalla Madonna. Lo sono. È diverso. Sì, però, usi delle precauzioni. Alla fine del raduno di ieri tu hai detto agli appuntamenti di tutto, tranne i tuoi, perché tu non devi far sapere dove vai. Vabbè, ma è normale questo. Per difenderti. È giusto. È giusto. E non è escluso che vengano proprio da lì. Senti una cosa. Allora, ieri è successa una cosa strana, perché tu hai avuto questo incontro a Bologna. Scusami, c'erano 3.500, forse anche più persone, lì, e quante? 2.500 in diretta. No, in diretta, la tua diretta, ci sono stati da 45.000 persone. Però a parte quello, andiamo avanti, io controllo tutto. Allora, come mettere a tacere Don Minutella, eh? Rederoni, eh? Allora, ieri io sono andato a fare delle interviste a San Vincenzo, vicino Livorno, dove c'era l'Eurotas 2023. Cos'è l'Eurotas? È una riunione di 160 delegati internazionali sulla psicologia del futuro, comunità transpersonale, scienziati che parlano di risveglio spirituale, è la cosa più essenziale nella vita dell'uomo, è l'unico scopo dell'esistenza. Cioè, scienziati che parlano di spiritualità. C'è cosa che non fa. La Chiesa di Roma non lo fa. Ma tu parli di Chiesa di Roma, ma sai, la Chiesa di Roma ora sopravvive in un'altra forma, Red. È quella di ieri, la Chiesa di Roma, che non si riconosce in questo apparato potente, perché è potente. Parlano di misericordia, di povertà, e mai la Chiesa è stata questa Chiesa così falsa, è stata così potente. La gente cerca lo spirito. Se ti ricordi, è il collante che ci ha, dalla prima volta, unito. Parliamo di spirito, purché se ne parli, in qualunque modo se ne parli. Parliamo di spirito per non dimenticare che non siamo fatti solo di materia, di ciò che è ora per domani, ma che c'è una dimensione superiore a noi, che è superiore a noi, però la metafisica cristiana insegna anche che è dentro di noi. E questo è incredibile. Io non smetto di stupirmi di questo. Gli spazi siderali del cielo, l'infinito che è dinanzi a noi, perché nessuno ha potuto misurare quando guardiamo cosa c'è al di là di questo sistema solare, però poi dentro di noi, almeno io parlo per me, ma leggendi mistici e non solo cristiani, perché c'è una cosa che tiene unita la mistica di tutte le religioni, cioè questa metafisica dell'interiorità. Come dice Sant'Agostino, entrare dentro se stessi e scoprire Dio, scoprire la metafisica. Barnard, quando fece il primo trapianto di cuore, siccome andava in voga il materialismo esasperato, non ho trovato l'anima. E anche quando il primo astronauta disse di non aver visto Dio lì. Ma ecco, non è che lo vedi con gli occhi del corpo, che anzi dovresti dubitarne se fosse così. E' un'acquisizione interiore. A proposito di Flavia Vento, visto che per ora tiene questo, io non ho detto, io ci credo, nel senso che perché mai una donna dovrebbe dire quello? Perché mai? Dicono che perché cerca il risalto, ma questa è, vorrei dire, questa è pirateria di una coscienza. È pirateria. Perché dire, perché questa donna ha detto che, peraltro le parole che ha pronunciate non mi sembrano così stransi. È quello che dovremmo dire noi preti che non diciamo più. Quello ha detto che Gesù sta tornando. Che significa Gesù sta tornando? Io dico, quello che ha detto Papa Fred, che dici tu, Fred, cioè i scienziati lo dicono. Si sente, il cosmo è di fronte a un parto. Ma lo stanno dicendo. Padre Vissalione dice che è già qui Gesù. La separazione del grano dalla data. Ti dirò di più, a proposito di questo, che c'è una profezia biblica, teologica, quindi niente affatto documentata, che prevede già San Paolo nella lettera ai Romani, lo dice, che gli ebrei, questo è interessante, si convertiranno quando Gesù Cristo sta per tornare, si convertiranno, c'è quell'astio, quel, sai, quel, si trasformerà. Dipende quali ebrei. No, certo, non parlo di quelli... No, noi abbiamo, vabbè, ma lo siamo per... Ho scoperto stamattina, prima l'avevi detto tu ieri, che a Roma c'è un sinodo. E io stamattina l'ho scoperto perché venendo qui guarda caso, come al solito le dio incidenze, appena accendo la macchina parte la radio e c'era un sacerdote che stava dicendo, di questo sinodo, una chiesa disunita non ha peso nella gestione degli affari del mondo. Ma perché la chiesa deve gestire gli affari del mondo? Sì, ma infatti sono impazziti. Dio li ha accecati. Te sai che il faraone d'Egitto, Mosè andò e gli disse per conto di Dio, lascia partire il mio popolo. Non volle e si legge che Dio gli indurì il cuore. Non è che è Dio che indurisce direttamente il cuore, ma quando te ti opponi allo spirito, che resta? Chi si oppone allo spirito, anche se raggiunge il potere... Ma la chiesa non deve gestire gli affari del mondo. Appunto, appunto. Deve gestire l'accecamento. Infatti, ma tu trovami un prete, perché io non sono nevescovo, poi sai, io non esisto per i media, voglio dire, Red... Non c'era... Mi ha colpito tu e ieri hai detto, visto che ho fatto bene i compiti, te l'ho visto, ieri hai detto che non c'è neanche un giornalista. Non c'è neppure un giornalista ieri, lo trovo veramente... Sai perché lo trovo strano? Perché comunque, al di là di tutto, puoi dire anche che sono 3.500 invasati, però devi documentare il fatto che... No, non è solo questo, Red, è un'altra cosa. Che invece poi mi vengono sotto casa, scusa se alzo la voce, perché lì mi arrabbio, per farmi lo scoop, per fare lo scoop del prete che sequestra le suore, che le strappa le famiglie. Ma dico, ma come si ridotta l'informazione? Ma qui c'è una delle tue, fra virgolette, suore con papà e mamma. Sì, appunto, appunto. Chi è? Non mi ricordo chi è. Ah, sì, scusa, non me lo ricordavo. Lei è una delle nostre collaboratrici. Sì, sì. Vabbè, ho concesso, sai, ogni tanto concedo. Poi dico loro di non mostrare il collo perché io le picchio, come dicono i giornalisti. Ma ti rendi conto, Red? E poi un prete che non è noto ufficialmente, che non è teologo ufficiale, che va contro il sistema, eccetera, ti riunisce 3.500 persone. Da tutto il mondo. Da tutto il mondo, niente. Non se ne parla. Te vedrai che magari non escludo che prossimamente, di nuovo, a parlare di Don Minutella, il guru di Carini. Allora, altra cosa. Benedetto XVI si è dimesso, ma non ha dato il munus. Tu continui a parlare di questo munus. Io non so cosa sia. Beh, è molto semplice. La parola munus in effetti è polisemantica, quindi bisogna procedere con molta, qui ci vuole rigore giuridico e teologico. Munus indica l'ufficio, chiamiamolo così, che Gesù Cristo stesso, che per noi cristiani è il figlio di Dio, quindi c'è una, diciamo, una normatività assoluta, assoluta, ha consegnato a Pietro. In Matteo 16, 18, Cristo chiede, la gente chi dice che io sia? E gli apostoli rispondono, alcuni è Geremia, altri è Elia, altri qualcuno dei profeti. Sì, ma voi chi dite che io sia? Chi parla? Simone, che ancora si chiamava Simone, figlio di Giona, il pescatore di Galileo. Tu sei il Cristo, tu sei il Cristo, gli dice. E l'affermazione è decisiva. Allora Gesù Cristo capisce da Dio padre, tu sai che c'è un rapporto, tutto da approfondire, di Gesù col padre, atteso quel momento, e con la sua coscienza umana, illuminata da quella divina, Gesù Cristo comprende che è l'eletto a cui consegnare per conto di Dio padre il munus, cioè tu sei il primo papa. Ecco, allora, il munus è questo, di fondazione divina, non commutabile, non condivisibile, che passa da Pietro a Pietro, cioè ci sono stati 265 successori di Pietro. Per fare un paragone così normale, è come quando in una staffetta tu passi il testimone a quell'altro che corre. Ora c'è un dettaglio importante, visto che mi hai chiesto, in una parola lo dirò, perché poi queste forse sono cose che stufano, anche se dette in un certo modo possono far riflettere. Il codice diritto canonico che norma la vita della Chiesa, perché ogni corpo, compreso quello ecclesiastico, ha bisogno di un'autoregolamentazione, prevede che un papa si possa dimettere. Perché può succedere? Tu avrai visto il film di Nanni Moretti, Abemus Papam, l'hai mai visto? No. Ecco, è il film interessante, secondo me anticipava, per altra via, l'elezione di un papa che per problemi psichiatrici non reggeva. Può succedere, ci può essere uno che, per motivi di salute, ecco, però il codice, che è legge per la Chiesa, prevede tre cose che il papa faccia perché si dimetta in maniera valida, che sia libero di farlo, cioè non pressato, come è stato benedetto, che il maggiordomo gli trafuga le carte, che lo volevano avvelenare e uccidere. Il morde complot, ne ha parlato il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, quando è andato a Pechino, ed è stato confermato. I cardinali che non gli stringono la mano, l'isolamento, la persecuzione mediatica, non era più libero di dire una sillaba che tutti gli andavano addosso libero. Secondo, terzo momento, il secondo lo lascio per ultimo, che lo faccia in maniera corretta, cioè nelle modalità giuste, quelle l'ha fatto, però il testo è pieno di errori. Ora, non era un SMS. Certo. È un documento che Benetto XVI fino a quel momento non aveva mai sbagliato, va a sbagliare giusto appunto il documento più importante della sua vita, più del battesimo. E lui il latino lo conosceva. Parlava il latino con i cardinali al Vaticano II, con i vescovi al Concilio Vaticano II. Ma lo campivano tutti? Questo non lo so, credo di no. Ma il secondo aspetto che è importante è che il Papa per rimettersi è proprio previsto così. Consegni il munus, non il ministerio. Il munus che cos'è? Tu sei Papa, lo fai. Sei. Perciò lo fai. Lo sei perché Cristo attraverso l'elezione valida dei cardinali in conclave e ti ha scelto. Hai detto sì, sei Papa, lo fai. Allora lui che cosa ha fatto? Non lo posso fare. Sono impedito. Mi autorrelego in sede impedita, consegno il fare, ma mi porto l'anello. A proposito di Frodo, il signore degli anelli. Mi porto l'anello, cioè mi porto, non l'anello nel senso, mi porto il munus. Cioè l'ufficio, Bergoglio, non ce l'ha mai avuto. E infatti, Don Minutella è così odiato, perseguitato, si arrabbiano con me perché dice una cosa la palisiana. E nessuno ne vuol discutere. Sanno solo attaccare, diffamare, cannuniare, offendere, attaccare. Per quello invito i fedeli a non andare in unione con Papa Francesco perché quella non è la Chiesa Cattolica guidata da Pietro. Tu hai detto nel Vaticano c'è la sede ma non c'è la fede. Esattamente, esattamente, proprio così. Allora, ma c'è stato un altro periodo in cui il Papa, c'è stato un altro Papa che ha rimesso il mandato, Papa Clementino, Celestino, il più famoso è Celestino V. Eh, che se ne andò. Esatto. Tant'è vero che Dante lo mise all'inferno. Sì, però sbagliò perché per la Chiesa è santo. Sì, anche perché secondo me il motivo per cui se ne andò era un po' un Papa Luciani, cioè aveva visto... era un mistico, aveva visto il marcio che c'era. La strumentalizzazione lo avevano strumentalizzato. Ma c'è stato un altro periodo in cui il Papa è stato contestato così come oggi? così come oggi credo di no. Come oggi, voglio dire, con Benedetto perché invece Bergoglio come vedi è acclamato, idolatrato. Cioè, i teologi, i modernisti che ieri hanno ancora le mani macchiate di sangue perché Benedetto lo hanno crocifisso, non poteva parlare. Oggi sono divenuti i papolatri perché hanno il loro Papa. Capito? Ma non esiste il mio Papa e il tuo Papa. Il Papa difende il bagaglio della fede e annuncia la verità di Cristo, non le proprie idee. Cioè, guarda che siamo proprio al burlesque, guarda che il nuovo prefetto, il compare Danello di Bergoglio, è quello che ha detto ai cardinali bisogna seguire il Papa, bisogna obbedire al Papa. No, scusate, bisogna obbedire al Vangelo. Per cui se il Papa va contro il Vangelo bisogna dirglielo, ammesso che sia Papa. Siamo a livelli proprio, guarda, di dittatura. Io non so se... Siamo a livelli di regime. È una cosa mai vista prima. Te sai che lui, non so se lo sai, Bergoglio adesso nei giorni scorsi ha pubblicato un ennesimo documento in una situazione in cui il cattolicesimo agonizza, le chiese sono vuote, la spiritualità, il cattolicesimo non regge al confronto con la spiritualità. Per questo la gente va a cercare, va a cercare, mi viene quasi, veramente vi conviene da piangere. La gente non la cerca, non cerca Dio nel cattolicesimo romano. In America Latina se ne vanno a milioni dalla Chiesa. In Germania, notizia di ieri o ieri l'altro, il 18% dei cattolici non sta più pagando la tassa. Sai che si paga la tassa in Germania? I cattolici. Se ne vanno perché non c'è, ma non è, padre Vincenzo, non è solo perché c'è la benedizione delle coppie gay, no? Io penso che non è solo, non trovo, ecco, non trovano lo spirito, non trovano lo spirito. Eh, padre Vincenzo, dopo mi piacerebbe se potesse venire qui, padre Vincenzo. Eh, però accompagnato perché c'è la mia insedia a rotelle. Non trovano lo spirito e allora la gente va altrove. Sai, quando un Vasco Rossi ti riempie lo stadio e invece le chiese ti rimangono vuote perché il potere di aggregazione simbolico, melodico, io non lo sto condivido, non sto dicendo che lo condivido, sto dicendo che faccio una lettura antropologica, la ritualità, la gestualità, la chiesa non è più all'altezza, quelle liturgie lì sono una cosa pesantissima, quelle di Bergoglio in Vaticano, la gente non ha più fiducia in quella realtà, però hanno i soldi, hanno il potere che il diavolo gli dà e quindi lo esercitano e sembra che sia la chiesa dei tempi d'oro, ma siamo messi peggio del rinascimento, Red. È diventato ritualismo come era il mondo ebraico, i sommi sacerdoti del mondo ebraico, si è svuotata della spiritualità per cui la gente non trova più il fondamento per cui si va in chiesa, non si cerca più il trascendente, il sacro, perché è stato tolto dagli stessi ecclesiastici per guardare non più dalla linea discendente un rapporto con Dio, ma una linea orizzontale da uomo a uomo, siamo ricaduti nelle stesse errori del rinascimento, per cui in quel rinascimento ci è voluto un concilio, il concilio di Trento che riportasse l'equilibrio. Ed è incredibile che lo stia facendo Bergoglio, che si richiama alle aperture, al dialogo, eccetera, noto che Don Vincenzo ha i rosari in mano. Io non ho mai visto recitare un... voi recitate un rosario in chiesa? Non ho mai visto un rosario recitare? Noi lo facciamo quattro ore e mezzo di preghiera. Il nostro spirito che parte un po' da questo carisma che vediamo e che sentiamo in Padre Alessandro è fondato proprio sul cominciare noi a pregare, riempire le nostre persone di preghiera e sulla base della preghiera puoi poter parlare. E il rosario è diventato la nostra arma. Lui ha battuto sempre su tutti e tre i rosari tutti i giorni e tutto il piccolo resto lo ha preso non come una legge ma come un atto d'amore per cui questo ci ha legato ancora di più affettivamente a lui perché è la Madonna in mezzo che crea questo legame. E perciò il rosario diventa per noi strumento continuo. Non lo facciamo solo perché è un atto di dovere. Noi ne recitiamo tre forse anche quattro e forse anche cinque la gente che ha più tempo malata come me ha il tempo di farlo e diventa un sostegno per tutti e questa è l'arma dello spiritualità che ci ha trasmesso nel fatto di riprenderla e noi continuamente nelle nostre chiese nelle nostre adunanze il rosario è la prima cosa che facciamo e da qui poi ci prepariamo anche a celebrare il mistero di Cristo perché altrimenti sarebbe di nuovo ritornare a quello che fa la falsa chiesa atti di teatro le liturgie non sono più una trasmissione dello spirito che scende perché non essendoci più il munus viene a mancare la grazia di stato che assicura la transustanziazione per cui anche se stendono le mani non passa più ma non perché manca il crisma elemento che mette le mani in comunione con le piaghe di Cristo perché dalle sue piaghe siamo stati vedenti manca proprio questa trasmissione perché viene a mancare il quid sostanziale ecco perché noi diciamo non andate nella falsa chiesa cercate di astenervi perché sono diventati atti teatrali come quello che avviene al Teatro Massimo o al Teatro Biondo di Palermo sono atti teatrali per cui la gente crede di levarsi un dovere da fare ma arrivando in quelle chiese non trovano più quello che serve per liberarsi interiormente così come entrano se ne vanno e quelle tarli che ci sono nell'anima piano piano portano a Cancrena ecco perché la gente si è allontanata ed ecco perché ci avviciniamo a Don Alessandro e vediamo il carisma che lo spirito gli ha dato perché ci ha riportato tutti tutti se vedete il piccolo resto tutto è affezionato sai che Red è uno che è percettivo ha già capito che in te c'è molto spirito perché ti ascoltava con grande attenzione sono le die incidenze tu devi sapere che venendo qui io ho parlato con Massimo tuo gemello e lui mi ha detto guarda tu dovresti parlare anche con padre Vincenzo me l'ha detto lui perché lui è molto e allora io ho detto vabbè chissà se verrà padre Vincenzo e come mai tra qui tra questi c'era padre Vincenzo e come mai tu l'hai nominato che non lo vedevo perché era dietro cioè noi siamo ecco perché l'hai inquadrato subito certo ma perché perché noi siamo portati da delle onde e tu parlavi di di preghiera tu pensa che i malvagi di questo mondo stanno facendo cose orribili per il nome del denaro hanno distrutto i Maui nella Hawaii con dei laser hanno c'è addirittura chi dice non lo so se è vero siccome io ho visto anche un documentario dove fatto dalla RAI su Voyager dove dice che i terremoti possono essere provocati che abbiano intenzione di provocare addirittura qualcosa a Napoli hai capito con i cambi abbiano interesse a dei disastri speriamo non sia vero addirittura abbiano dei disastri a far sì che la sua famosa falda delle cose crolli quella falda lì in America e io ho chiesto ma cosa possiamo fare e in tre persone bravo pregare mi hanno detto pregare a proposito del rosario vorrei dirgli una cosa siccome anche purtroppo da parte di questa falsa chiesa Bergoglio se l'è messo all'orecchio per canzonarlo il rosario vorrei dire una cosa che è molto importante che mi riguarda visto che lui mi chiama in causa sul rosario il rosario non è solo una pratica devozionale è una tecnica profonda lui è dominicano lo potrebbe dire meglio di me una volta è venuto a trovarmi una persona che faceva che fa pratiche buddiste sono rimasto senza parole e mi ha detto sa padre Alessandro perché da noi donne non si usa giù in Sicilia padre Minutella e volevo congratularmi con lei guarda sono cose perché? perché lei raccomanda sempre di citare non uno ma tre rosari e ho detto questo sarà un cattolicissimo di quelli ultras e no mi dice io sono da anni faccio le pratiche queste buddiste dice ho scoperto e ho scoperto che non c'è una pratica migliore per voi cattolici del rosario perché quel ritmo ti fa uscire dai travagli del tuo per introdurti in una dimensione che in altre religioni cercano come sappiamo con come si chiama la meditazione la meditazione la meditazione la meditazione la meditazione perché il rosario aiuta a sedimentare i pensieri psicologicamente e questo i psicologi lo riconoscono sedimenta i pensieri per cui nel momento nel momento perché al battito c'è l'Ave Maria come un ritmo e quella è solo una preghiera vocale ma la mente e il cuore nel frattempo lavorano e sono lavorati dallo spirito il trascendente che noi vogliamo riportare all'attenzione e noi sacerdoti ci siamo affiancati proprio perché riconosciamo questo io da domenicano che è il mezzo lo strumento di predicazione che raccoglie tutta la predicazione nei misteri a noi ci viene insegnato dalla formazione già questo eppure ho visto gli unacum anche miei confratelli che di questo mezzo che è lo spirito nostro dominicano l'hanno messo nel cassetto e anzi lo prendevano come mezzo di burla e allora invece noi ho riscoperto non solo nella recita quello che produce psicologicamente o anche spiritualmente come valore ma soprattutto il fatto che per noi essendo mezzo di predicazione canalavamo tutta la morale nei misteri dolorosi la dommatica nei misteri gaudiosi la liturgia con i misteri gloriosi diventava un compendio di tutto ora la predicazione dei dominicani non ha più senso di essere specifica perché si sono adattati alla predicazione di tutti predicando tutti hanno perso quel quid di specificità così come anche gli altri ordini ma fra l'altro i dominicani sono quelli che hanno il dovere di tenere la conoscenza della chiesa è la dottrina è la dottrina salvaguardia della dottrina avevamo la santa non ti sei arrugginito avevamo la santa inquisizione proprio per garantire la fedeltà alla dottrina e invece però la santa inquisizione ha fatto dei danni incredibili siamo d'accordo e però era uno strumento con i suoi difetti andava purificato andava sistemato sicuramente sistema giuridico tutelare garantista guarda che opera dell'inquisizione studi fatti da persone non confessionali perché comunque c'era la possibilità di difendersi certo poi costringevano talora questo bisogna dirlo a ritrattare perché credevano al potere si poi hanno bruciato hanno bruciato tante Giovanna d'Arco tante persone illuminate che venivano definite streghe ma Giovanna d'Arco è l'esempio più emblematico ma anche quella là in Egitto quella là in Ipazia Ipazia anche Ipazia cioè però Giovanna d'Arco è il caso più clamoroso mi vuole agganciare a quello che diceva ma di dove sei tu? sono della provincia di Palermo sono di Ciminna originali io l'ho sempre detto che la rivoluzione ma la Madonna la Madonna ha voluto che ci affancassimo perché eravamo anche compagni di seminario mentre lui era al quarto anno io ero al primo anno ma eravate già ribelli? eh sì però con forme differenti nel senso che lui da un certo punto di vista era molto riservato in seminario ma anche sempre molto ligio al dovere sempre ben preparato parte lucide capelli corse ed era un po' l'esempio per tutti ma questo esempio che diventava specchio a chi invece aveva modalità più moderniste e libertine diventava un mezzo per accusarlo uno specchio che rimandava indietro l'immagine e ricordo che addirittura alcuni lo canzonavano facendo degli atti di devozionismo pietista come in Sicilia ancora ci sono a causa delle confraternete che mantengono un po' uno spirito solo appariscente e esteriore piuttosto che la sostanza che succedeva che magari facevano delle processioni in seminario giocando alcuni seminaristi si fermavano davanti alla sua porta e facevano benedizioni come se chissà conosceva però anche dal fastidio che questo aspetto devozionale nulla toglieva il fatto che il testimone era il più bravo in teologia e questo neanche ai superiori riusciva chiaro come era possibile che uno che dice il rosario lo prendono in giro per il suo amore alla madonna e poi è il più bravo in teologia ecco veniamo veniamo all'amore all'amore per la madonna aspetta perché tu dici sembra il tuo slogan se si può parlare di slogan salviamo la chiesa per conto della santa vergine e avanti con maria queste sono le frate perché la madonna perché la mia vita maria io potrei dire che il respiro mio è maria io la amo la madonna e sono amato da lei con un amore materno protettivo curativo di fronte a tutto l'odio che c'è altrimenti non ce l'avrei fatta Red e quella è la percezione come dicevo poco fa interiore soprannaturale molto forte per quello che mi riguarda è un'esperienza relazionale vera autentica non inventata fittizia capisco che per quelli che non lo vivono può apparire una proiezione mentale ma prima o poi la proiezione mentale come sai ci sono studi che lo dimostrano crolla no? prima o poi se una proiezione mentale crolla se invece è un fatto oggettivo vero lo vivi e vai avanti io questo ce l'ho molto forte quello di che avanti con Maria le piaghe morali che a don Alessandro gratuitamente sono state date come martirio bianco per lui veramente sono stati elemento di prova di certificazione che quello che fa e dice viene dal cielo nessun altro uomo avrebbe potuto reggere psicologicamente a tutte le provocazioni a tutto il male che gli hanno fatto ingoiare e lui se non avesse avuto la Madonna che gli dà con lo suo stile di serbare custodire e meditare se non avesse avuto lui dentro lo stile di Maria lo stile di vita caratteriale di Maria a quest'ora o sarebbe esploso in un esaurimento nervoso o sarebbe morto per il magone che dentro metabolizzava e fisicamente sarebbe esploso in qualche malattia lui solo perché ha la Madonna è stato salvaguardato da tutto questo e noi ne siamo certi questa è la garanzia come grazia di Stato che su di lui c'è qualche cosa di più eh sì o non sarei citato protetto quando un camion è arrivato addosso eh se lo ricordo quella è stata un'esperienza io l'ho raccontata anche lì mi hanno preso in giro a chi se ne infischia io ho visto una cosa mai non l'ho mai più sperimentata e non l'avevo mai sperimentata come come se come se io tenevo una cosa incredibile Red guarda sei uscito dal corpo ma una cosa incredibile e con la mano io mi sono visto che con la mano tenevo incredibile che tenevo il camion allora io ho detto secondo me era il mio angelo custode oppure era l'anima che non essendo il momento di andare via ha detto momento ancora devo restare devo coabitare col corpo ma tu come tutti noi sei un essere di luce dentro della materia sì 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 ma tu sei un essere di luce sai che mi piace questa frase essere di luce perché quel Don Robert francese che ebbe l'esperienza della scorporazione con padre Pio fu ucciso questo sacerdote dai soldati algerini e lui si vide uscire dal corpo e disse che davanti a Dio padre lui saliva no? e poi arrivò proprio fino davanti a Dio padre che gli disse che doveva tornare e lui disse alla fine siamo scintille di luce bella questa frase scintille di luce io ieri però perfezionare una cosa questo è altamente vero ma in senso spirituale come l'ha detto lui perché portatore di luce è Lucifer è Lucifer noi non lo vogliamo lo abbiamo cacciato perché lo riconosciamo in chi invece vuole togliere il sacro Lucifer luce che è umana luce umana è quella che porta la falsa chiesa la luce che invece è in lui non è quella di Lucifer è quella di Maria perché questa è l'era di Maria è l'era di Maria è finita hai visto cosa ho trovato sulla strada sulla strada incontri sempre e ancora non è finita qui si preparino senti no fra l'altro lui mi sta parlando di una cosa che è che la luce la luce umana la luce qui terrestre è una luce anche luciferina e che se la guardi dà fastidio la cosa che mi colpisce in quelli che hanno visto le astronavi avevano una luce fortissima ma non dava fastidio perché era plasma e a proposito di questo sai che ogni tanto noi parliamo di extraterrestri perché lo so ieri in questo in questo convegno che ho visto a cui sono andato non ha partecipato uno che doveva venire perché ha chiamato dall'America perché è diventato capo del congresso americano gli ha affidato la direzione di una commissione che si occupa di comunicare a tutto il mondo che gli extraterrestri esistono che ha iniziato il piano di contatto e che stanno cominciando a creare anche delle università per dialogare con gli extraterrestri quindi quando il potere terrestre ammette questo che tutti noi sappiamo perché quanti quadri ci sono delle sacre scritture dove si vedono le astronavi dietro anche alla Madonna eccetera questo significa che anche la religione non è più terrestre o di Roma ma diventa una religione universale guarda sul conto per esempio ne abbiamo parlato altre volte degli astronauti non degli astronauti dell'esistenza di forme extraterrestri la chiesa non si è mai pronunciata ufficialmente contro e neanche a favore ti ricordi che abbiamo parlato di quella lettera del direttore dell'ufficio astronomico vaticano caro fratello extraterrestre fece scalpore sotto il pontificato credo di Benedetto XVI tra l'altro credo un domenicano e che diceva proprio non possiamo escludere poi siccome io su questo come sai bene rimango sempre non scettico ma abbastanza finora indifferente vogliono convincermi anche gente del piccolo resto come lo chiamiamo mandandomi te l'ho già detto questo alcune espressioni effettivamente ho verificato che sono vere di padre Pio e Maria Valtorta in cui padre Pio avrebbe detto però io diciamo non ho verificato c'è la documentazione ma devo andare a verificare che Dio è infinito e quindi noi non dobbiamo escludere la possibilità che e poi Maria Valtorta Gesù dice tu pensi che il padre mio abbia creato soltanto voi l'unico problema per me teologo sai quale è red te l'ho già detto anche l'altra volta credo c'è un tema per noi rinunciabile per noi preti teologi ed è la redenzione cioè Gesù Cristo morto in croce per la saprezza possibile mai che questo sacrificio immenso abbia riguardato solo la stirpe umana ecco quindi non lo so è veramente resta e devo solo dire una cosa che un po' di vorrei dirti generalizzazione c'è ed è pericolosa perché padre Amort diceva che alcune volte non sono queste forme aliene eccetera ma sono forme di clownismo starei per dire pagliacciate diaboliche per confondere ci sono ci sono anche quelle tu lo confermi no no ci sono anche quelle però bisogna stare attenti bisogna stare attenti però rimane il fatto che sai alla fine c'è una legge universale ne hai parlato tu ma perché mai adesso si dovrebbero perché siamo alla fine dei tempi siamo alla fine di certi tempi questo evidentemente però non c'è bisogno che ce lo vengono a dire gli alieni Bergoglio ci aiuta molto sì ma è per combattere questa distruzione dell'anima e dello spirito che c'è questa cosa qui quando noi arriviamo a fare delle guerre quando noi arriviamo soprattutto e Gesù lo disse a toccare i bambini quello che sta succedendo ai bambini Matteo 18 mi pare è diabolico cioè spariscono 8 milioni di bambini che vengono usati per essere torturati per essere donatori di organo violentati toglierle il sangue per rimanere giovani cioè noi siamo bambini a servizio però io voglio fare una domanda non credete che queste siano proiezioni per allontanare dai problemi da analizzare veramente che ci riguardano direttamente queste idee di altre forme di vita noi sappiamo che Dio è creatore questa è l'affermazione che in quanto tale non ha creato solo la stirpe umana la Genesi ci racconta l'inizio della creazione l'inizio della creazione per cui anche i filosofi dall'inizio della scuola di Mileto già cominciavano a cercare gli infiniti mondi gli atomisti credevano che tutto fosse dato dagli atomi non è un problema riconoscere che ci possono essere forme di vita ma a noi che ce ne frega io mi chiedo perché non occuparci intanto a guardare la nostra vita dalla quale abbiamo tolto l'orientamento al creatore per guardarci solo tra creature perché andare a guardare altre creature se stiamo rovinando il mondo e nessuno ce lo fa guardare e ci dicono soltanto equilibrate ricchi e poveri il red dice che vengono loro no hai ragione però vedi gli altri mondi chiamarli è già per la chiesa è un peccato questo va detto evocarli ma non è questione di evocare invece lui dice che vengono loro attenzione attenzione noi tu parli di questo mondo noi l'abbiamo distrutto bravo siccome la terra è vista anche dagli altri mondi è vista dagli altri mondi ma come uno dei pianeti più belli perché qui c'è la diversità qui noi abbiamo abbiamo le pietre abbiamo gli alberi abbiamo gli animali che non esistono in tutti i pianeti quindi noi siamo un pianeta modello e lo stiamo distruggendo dopo guerra in poi dalla prima guerra atomica noi stiamo distrutto però dico anche se ci fossero manifestazioni da parte di altri pianeti anche noi manifestiamo presso gli altri paesi andandoci con i missili a farci vedere sugli altri pianeti il problema ecco il problema non è dal punto di vista della ricerca che continuasse pure la ricerca è un bene per tutti fides querens intellectum intellectus querens fidem poi la traduce adesso l'intelletto l'intelletto ma ho avuto che fare con il suo padre un domenicano di Bologna chi era come si chiamavano mi ricordo veniva nei miei programmi domenica adesso Donuli no Donuli era un altro comunque io penso che l'intelletto che si nutre della fede la fede che si nutre dell'intelletto vicendevolmente hanno bisogno di un confronto però questo non significa poi prendersi più cura andando fuori dal nostro cervello per andare a pensare ad altre forme mentre noi qui combiniamo con i bambini con questo con quell'altro rovinando il modo di vivere allora dovremmo grazie alla luce che dallo spirito è sulla base della preghiera sempre e comunque nel celebrare Dio e la sua redenzione cosa che hanno ingannato con la santa messa del nuovo rito nel creare messe che non sono più il mistero di Dio orientarsi a Dio portare a Dio e ricevere da Dio ma è diventato tutto una comunione tra di noi un'armonia una festa tra di noi ma questo non aiuta agli altri non aiuta a levarsi i problemi di coscienza fa fare festaioli ma diventa teatro tu sai che stai parlando con Red che è un grande stimatore della musica gregoriana no? si l'ho assorbito a parecchio quando ero seminarista e quindi ti sarà rimasta dentro certo poi hai cambiato i modelli eh certo non lo sapevate? quattro anni di seminari ho fatto capito? quattro senti si e quando usci mi ricorderò sempre queste immagini io bambino mi sentivo abbandonato dai miei perché capito e quando alla fine del terza media dissi col rettore che uscivo lui mi disse peccato la chiesa perde un grande uomo e io sono andato a trovarlo e quindi pensa se l'avessimo avuto in questo momento cardinale andava tutto diversamente no mi avrebbero fatto fuori dici? si no ma però siamo protetti sai ma guardate il modo di fare fuori da parte di questi per noi sono lauree onoris causa io io ho già organizzato nel momento in cui mi arriverà la scomunica o la riduzione allo stato del recale ho organizzato una festa con i fuochi d'artificio la torta e poi mandare le foto le foto proprio per dire che bello finalmente ho la certificazione che sono fuori dalla massa ma c'è anche il frate Celestino a piedi nudi qua Celestino sempre a piedi nudi sempre ma ci sono anche gli altri fatti li avevo chiamati stanno arrivando perché arrivano lui è il Pavel che è della Repubblica Ceca alle tue spalle c'è padre Gebhard tedesco queste manifestazioni di punizioni che confermano la misericordia semplicemente umana di Bergoglio sulla base di carte che gli danno il potere sono per noi senza effetto sono per noi carte nulla intanto perché riconosciamo che non è il Papa quindi ogni cosa che lui fa sarebbe nulla è nulla ad esempio lui ha buttato fuori dal convento ma lui è uno scandalo perché? per la falsa chiesa perché è uno scandalo? e perché scomunicare un frate che sta a piedi nudi? quale può essere il motivo per cui condannarlo? ma perché l'hanno scomunicato? è perché lui non riconosce Bergoglio come Papa capito? la chiesa della misericordia è uno scandalo perché lui osserva la regola allora non vogliono che si osserva la regola di guardare Dio vogliono che si guarda solo lui anche lui ha rosario in mano a me colpisce questo fatto fantastico regaliamo uno dai no sai perché? no ti spiego ti spiego perché io ti avevo invitato all'OM perché mi avrebbe fatto piacere anche che tu avessi conosciuto l'abate Vissarione il quale era un allievo di padre Amor ed è un esorcista lui ha anche la spada che gli hanno fatto fare dell'esorcismo e lui mi ha fatto una cerimonia di guarigione perché noi tutti al di là questa è la corona proprio ed è quella del nome di Gesù credo è vero? e si casta sì sì è bellissima che è fatta da delle suore che intrecciano questi e ognuno ha il numero di Cristo perché sono 18 che è 9 il numero di Cristo sono 18 eccetera e lui mi ha detto allora ti do questa candela tu tutti i giorni reti il padre nostro e il quattordicesimo giorno fai il rosario e bruci mentre bruci la candela e mi ha fatto fare il rosario quindi io dopo tanti anni perché ho dato seminari ho fatto il rosario che bello che bello allora sei dei nostri ci vuole pompa essere dei nostri ci vuole basta solo essere razionali e tu ce l'hai essere razionali riconoscere con l'intelletto personale individuale che bisogna fare una scelta perché non ci interessa il potere ci interessa lo spirito ma perché ma frate o se senti Flavia Vento dire che le voglio parlare che poi racconterò ai tradizionalisti che si può ottenere si può ottenere qualcosa anche da figure inaspettate io ho incontrato due volte a casa sua una famosa subretta italiana bionda avvenente e abbiamo parlato e abbiamo pregato insieme e sul conto di padre Amort questo i nuovi farisei lo dovrebbero sapere che c'è un'anima in ogni persona hanno già deciso hanno già deciso che loro sono i perfetti però stanno con Papa Francesco si sconvolgono di Flavia Vento che vede gli alieni e poi stanno con l'alieno sulla terra che è contro alieni non è un alieno ecco appunto ho detto precisato ma no è un alieno sai come qui ci sono le persone buone e quelle cattive ci sono gli alieni buoni e gli alieni cattivi ci sono i rettiliani si sconvolgono si sconvolgono se Flavia Vento dice aver visto la Madonna io diciamo con la sua dichiarazione così spontanea ho dato credibilità poi è un fatto suo di coscienza però andare a pensare che non la debba vedere perché è stata showgirl so brett guardate che è l'errore dei farisei hanno già deciso che loro si salvano i farisei che onorano San Paolo che in realtà era uno che uccideva i cristiani ma la cosa grave è che se ne stanno poi con vergoglio però poco fa devo dire una cosa che mi è scuggita che riguarda l'ultimo documento di vergoglio poi non l'ho finito ho scritto laudate deum si chiama e la sua preoccupazione è l'ambiente la chiesa è distrutta lo spirito non esiste però lui scrive un documento perché noi ci dobbiamo impegnare a difendere l'ambiente ed entra in gioco il fatto del come si chiama del riscaldamento globale te sai che per esempio Zichichi Antonio Zichichi il conterraneo nostro sostiene che questa è una grossa balla ma allora tu devi sapere che il potere ha delle narrazioni la prima narrazione è stata la pandemia dove ha fatto un esperimento chiudiamo in casa tutti vediamo se riusciamo a chiudere in casa tutti e ci sono riusciti seconda narrazione la guerra quindi improvvisamente noi diciamo che la Russia invade anche se in realtà è la Nato che ha messo le cose lì per provocare eccetera la terza narrazione è l'auto elettrica quando le auto elettriche inquinano più di quelle poi esplodono 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 e l'autobus di Venezia purtroppo lo ha detto Salvini non l'ho detto io non l'ha detto un complottista perché io non sono un complottista però per dire che se avesse avuto una batteria normale non quella elettrica non avrebbe preso fuoco ok l'altra narrazione di oggi è il clima il cibo perché col clima il cibo quello è il cibo non dobbiamo cioè quando io sono sempre stato vegetariano cioè no dal 90 e ho sempre detto che il mondo ci può salvare smettendo di mangiare carne per due motivi primo perché dove mangio un carnivoro mangerebbero 10 vegetariani secondo perché per fare una bistecca ci vogliono credo 15.000 150.000 litri di acqua quindi magari quelli che dicono che c'è un problema di acqua eccetera quindi noi abbiamo queste cose per poter salvare questo ambiente però loro dicono che dobbiamo mangiare carne sintetica che cosa ci mettono dentro ok e dobbiamo mangiare gli insetti per vedere fino a che punto noi possiamo andare sotto l'ultima cosa è il clima che cosa perché c'è questo tutti parlano del clima compreso chi è allineato con questo che si chiama Agenda 2030 informati cos'è l'Agenda 2030 sì sì lo so lo so benissimo schwarz questo qui che viene allora cosa succede che grazie a questa cosa diranno che tu in città non puoi fare più di 15 km per non inquinare ok le fabbriche possono inquinare finché vogliono ma tu devi fare inoltre ti daranno la patente ti vogliono mettere un microchip ok addirittura la Bate Vissario mi ha detto che quando noi facciamo questo gesto questo significa io e questo è Dio facciamo l'unione tra io e Dio infatti nella messa tradizionale le dita per rispetto dei frammenti eucaristici si tengono così perché perché io e Dio cioè mi unisco a Dio ok bene dove vogliono mettere il microchip tra il pollice e l'indice per interrompere l'unione tra l'uomo e la divinità e Dio quindi in tutto questo il microchip però è anche un mezzo per avere il controllo di ogni essere umano e gestirlo anche al computer quando non è più produttore economico e diventa un peso per lo Stato o perché lo Stato deve pensionarli eccetera eccetera con un bottone di computer invio è finito morte naturale e invece è una gestione dell'essere umano ma questo sta succedendo sta già succedendo tu guarda tu guarda l'Inps quanto sta risparmiando con tutti gli anziani che hanno fra virgolette diciamo così ma il microchip sarà veramente il modo per vedere al computer la persona com'è ancora c'è? no pensavo che anche tu oggi sei diciamo senza remore ma se io subisco le influenze eh sì eh sì e quindi che ho di fronte mi sta sto purtroppo assorbendo una parte che io dico che lui deve stare calmo poi io senti no ma io dico cioè perché fra l'altro fra l'altro mi hanno detto che oltre a buttare fuori lui da dal convento da un convento stanno chiudendo le suore stanno chiudendo il convento sì sì alcuni istituti religiosi eh femminili non hanno non hanno accettato alcuni diktat della cosiddetta santa sede e quindi fuori dal convento ma fra l'altro diktat che riguardano la puntura il cero magico che dovranno fare esattamente perché la chiesa diventa anche ma quello non la chiesa red la falsa chiesa è ovvio questo è uno di quei segni quando Bergoglio ha detto che è un atto d'amore da lì si è capito che questa chiesa è corcobaleno sincretista tutte quelle cose lì e anche era vaccinista appunto a me fa male pensare e usare la parola chiesa per riguardo a loro è un'altra cosa la chiesa non è quella la chiesa è il corpo mistico di Cristo non degli uomini quella che ormai si professa non può essere chiamata chiesa ad un'ansia assemblea per Cristo per andare a Cristo con la parola chiesa è proprio chiamati convocati per Cristo e non per gli uomini e invece tutta questa osservazione per gli uomini diventa semplicemente un modo per levare il trascendente dalla prospettiva umana ed è grave io soffro a pensare che si chiami ancora chiesa non la chiamerei così è manco falsa chiesa chiamare soltanto gruppo bergogliano è un gruppo umano bergogliano non è più chiesa la chiesa è questa la chiesa è quella che vive Cristo io la chiamo sai Red ho letto ho saputo che la Slovacchia ha cambiato governo sì l'ha saputo? sì e che questo governo slovacco sta finendo col produrre un dissesto geopolitico globale perché la Slovacchia è lì a due passi dall'Ucraina e questo nuovo governo invece a quanto pare è filo russo se ho capito bene sì benissimo questo si chiama eterogenesi dei fini cioè avevano pianificato tutto gli slovacchi che è una nazione lì che sta nel centro Europa hanno deciso no momento noi non ci stiamo e io ti dico no no voglio arrivare a questo però scusami perché io non sono un esperto era per applicarlo a quello che diceva Vincenzo sulla chiesa ecco c'è un movimento popolare dal basso che è quello che hai visto ieri che dicono a questa falsa chiesa a questo monopolio menzognero noi non ci stiamo e arriverà la differenza perché persino alcune giornali hanno dovuto dire qui in Italia e non in Slovacchia lo dico qui in Italia hanno dovuto scrivere il cambio di governo in Slovacchia potrebbe costringere la Nato e l'amministrazione Biden a rivedere i rapporti con Mosca ecco e l'eterogenesi si defini si parte con un progetto in questo momento tutto sta andando molto veloce non c'è più tempo per giocare non c'è dubbio dobbiamo pregare pregare tanto e coltivare lo spirito questo io raccomando a tutti coltivare lo spirito va bene grazie 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 a voi che ci date la possibilità e l'occasione di poter esprimere ciò che abbiamo nel cuore che è posto sicuramente dall'alto grazie alla possibilità di aprire gli occhi che ci ha dato la parola di Don Alessandro non è finita girati a 360 gradi ma in quanti ma in quanti siete abbastanza abbastanza cresciamo ogni giorno di più eh cresciamo ogni giorno di più ma siete tutti scomunicati no? quasi quasi e tu da dove vieni? dalla Germania e tu? dalla Repubblica cieca sono scomunicato scomunicato e tu? onore a me sei scomunicato? no no Italia aspetta non ancora non chiede a Don Enrico da dove vieni? molto noto Italia 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 Foggia Foggia ah che Robert Robert da dove vieni? dalla Slovacchia dalla Slovacchia dalla nuova Slovacchia dalla nuova Slovacchia speriamo eh? speriamo 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 che bella roba Ed bene io sto documentando una crescita spirituale importante sì sì ma siamo a niente siamo a niente ancora la gente deve prendere coscienza come abbiamo detto più volte che una svolta quella che accade ora o mai più se perdiamo se si perde la dimensione spirituale cosa resta? poi come hai detto te i vari passaggi allora c'è quello climatico l'hai detto tu no? certo e allora se non hai forti componenti spirituali come dice no ma mi ha colpito quello quello proprio che dici cosa possiamo fare contro questi malvagi che stanno creando eh tutto questo pregare anche a me ha colpito è la forma della preghiera perché non si può fare niente cioè non puoi dire perché la Madonna è apparsa sempre chiedendo il rosario in tutte le apparizioni ce l'hai sentata sempre il rosario la Madonna mi sembra si 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 e beh ma sai grazie bambini grazie grazie il grande Red noi siamo qua grazie al suo carisma espresso anche con chiarezza e anche con modi perché manifesta quello che si ha dentro anche il modo probabilmente un po' eccitato ma sicuramente è ciò che c'è dentro un po' eccitato ma lo vedo molto calmo lo vedo da lui sono le accuse sono le accuse che volgono no 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 ti vedo molto no no ieri ti ho visto volevo dire un'altra cosa non siamo soltanto dal suo cuore la Madonna vuole fare uscire ogni forma di vita ecclesiastica ecclesiastica per cui ha dato le suore che sono una forma di vita importantissima sostengono il lavoro della predicazione con la loro preghiera con il loro sacrificio oltre a questo ha fatto nascere io chiederei in tutti i seminari del mondo se c'è una fioritura di vocazione come abbiamo osservato noi in un anno solo 20 seminaristi ma 20 seminaristi di quale di tutte di tutte e non solo ma ho capito ma 20 seminaristi cosa vuol dire non sono 20 però 16 ma seminaristi di che cosa tu ieri parati dei seminaristi rispetto ai seminari dove la propaganda ho capito ma seminaristi di questa nuova chiesa non nuova non è nuova lui dice nuova giustamente per far capire alla gente è un rinnovamento ecco in questo senso capisco per farlo capire alla gente però in effetti nuova non è il termine giusto è dire la chiesa di sempre la chiesa di sempre conserviamo ciò che Dio ci ha consegnato portiamo avanti l'eredità che è nel deposito della fede che non va tradito perché tu hai capito tutti facciamo promessa quando chiediamo facciamo promessa di mantenere la fedeltà al deposito della fede di trasmettere il deposito della fede e invece poi quando viene tradito per accogliere le mode del mondo è solo un tradimento lui è un domenicano doc perché può essere sa essere se vuole un Tommaso d'Aquino o un Torquemado un Domenico di Guzzo o un Pietro da Verona ho visto tra l'altro i domenicani erano quelli che comandavano nella chiesa perché avendo la conoscenza perciò c'è il carattere capace del domino e del potere ma c'è anche la capacità di dare carezza e tanto affetto portando la dolcezza di Maria sì però lui mi è piaciuto questa mattina io mentre ascoltavo te nel tuo discorso iniziale no a un certo punto ho sentito mia moglie che è arrivata e ha detto ma non lo manda mica dire questo e poi è venuta lì ad ascoltare mamma mia perché hai detto delle robe però sai forse colpisce molto anche in tua moglie presumo anche la maniera perché siamo spirito quindi lo senti quando qualcuno sta parlando perché dice qualcosa in cui crede o sta recitando si sente e quello può attirare l'attenzione anche se non condividi no 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 diciamo diciamo che ragazzi quando sei attaccato bisogna attaccare purtroppo o difendersi diciamo che noi piace molto il contropiede sì sì all'italiana anche perché quando sei assediato improvvisamente la squadra avversaria fa gol sai il fatto che ieri 3500 persone circa si siano riunite e i giornalisti non ne parlino e non vengano è già una sconfitta per loro se ci pensi è già una sonora sconfitta allora a te ti hanno già fatto tutto perché prima ti ignorano quindi ti ignorano da un lato poi ti deridono ti hanno deriso adesso cosa verrà la polizia a farmi la multa perché indosso la talare allora viviamo in un sistema veramente capito cioè ci ignorano ieri nessuno ha parlato di noi oggi cosa arriva arriveranno perché i nemici telefonano alla questura e dicono hanno indossato la talare fategli la multa la paghiamo però è già come stiamo dicendo quanta è la multa? non lo so mi pare la prima volta perché poi va accumulativa mi pare che sarà su un 400 euro e poi man mano va salendo ecco vedi il domenicano che c'è tutto ma sapete noi saremmo pronti anche ad autotassarci per poter pagare il suo indossare l'abito perché sappiamo e crediamo che tutti gli atti di Bergoglio e dei suoi collaboratori sono nulli perché non lo riconosciamo come Papa e dunque tutto ciò che viene dalle sue azioni sono atti nulli dunque non solo può forzare la talare possiamo celebrare lui non essendo nulla per noi nulla non lo riconosciamo è una persona umana come tanti altri ma non non abbiamo la cura di pensare quello che lui voglia o dice non ci interessa non è più ciò che fa la chiesa quello non è ciò che fa la chiesa noi vogliamo fare quello che fa la chiesa non l'avevo capito no per quelli che ascoltano perché lui lui poteva sembrare che stesse parlando di me lo so lo so va bene va bene Red ti aspettiamo piccolanaggia Red e beh tornerò piccolanaggia ci sta benissimo lì ti facciamo pregare il rosario facciamo il rosario eh lo sapevo che mi avrebbe detto così certo sì Massimo me lo dice che lui è elastico molto elastico non è questione di essere elastico io penso che eh ogni persona venga programmato eh ciò che mi è successo perché mi hanno messo in seminario c'è una ragione per cui sono stato messo in seminario quattro anni hai detto quattro anni anche perché noi prima di nascere ma non ce lo ricordiamo facciamo un accordo su quello che è il nostro compito tu non intervenire eh sta buono è il suo pensiero sei tranquillo è buono no ma io capisco sta zitto lì te domenicano sta zitto perché perché già stavo partendo no no tu sta zitto perché perché io voi sapete già va bene io già so come dicono in Sicilia noi noi firmiamo un accordo cioè noi abbiamo un compito perché perché ad esempio questo qui questo guerra fondaio in realtà sta lavorando per la pace perché perché lui prima di nascere ha detto qual è il mio compito non parlare vediamo se tu riesci a fare un esercizio di stare zitto di ascoltare no la Madonna mi dà la capacità bene di ascoltare basta ti provoca stai attento che ti provoca quello viene dal mondo della tv che ne sai io vengo dal mondo della comunicazione che ho imparato all'inizio proprio in seminario perché in seminario perché l'arte l'arte della confessione è la più grande arte di comunicazione perché tu sei tutto di tutti non solo ma perché in quel contesto ciò che dici entra dentro ai penitenti esatto quindi noi nasciamo con un compito che accettiamo altrimenti perché tu sei nato e sei diventato Don Alessandro per rompere le scatole alla falsa chiesa perché tu sapevi perché il tuo compito era questo non per rompere le scatole ma per riunirli nella nuova spiritualità quindi tu sei nato altrimenti potevi nascere che ne so un bravissimo architetto potevi nascere un fontaniere che avrebbe aiutato la gente andando a giustare i tubi potevi nascere perché sei nato così perché tu hai avuto questo decine e fin da piccolo volevi fare il sacerdote perché vedi perché tu avevi un accordo che hai firmato prima di nascere vabbè noi sappiamo bene che per noi non è così è però lo so lo so che non è così ma non c'è problema l'importante è una cosa non è importante con quale via noi raggiungiamo l'obiettivo l'obiettivo sai qual è l'amore e basta su questo siamo tutti d'accordo no mi sto d'accordo su questo sì però volevo solo completare una cosa l'angolo e poi ti ha richiamato in causa un atto firmato noi lo chiamiamo volontà di Dio che il mondo chiama destino ma che noi chiamiamo volontà di Dio e vogliamo compierla come lui l'ha scritta per noi prima che nascevamo bene hai appena detto che l'ha scritta per te ho detto ho confermato ma ho chiamato volontà di Dio ma che ho chiamato volontà di Dio però trovo il punto d'accordo tra voi due su quello che io penso da teologo che quello che tu chiami firma che noi mettiamo perché è già tutto scritto è perché Dio sa già non perché noi mettiamo la firma perché Dio sa già che io gli dirò di sì ma a noi viene dato un accordo da fare in base alle possibilità che lui sa che noi abbiamo non può chiedere è finito abbiamo finito ok sì no perché ci aspetta no perché abbiamo la conferenza stampa ok ti aspettiamo piccolo nasi va bene ciao ma no volevo dire un'altra cosa Red e questa opera che tu svolgi così torna sempre utile perché la gente poi come vedo ascolta con molta attenzione queste argomentazioni queste riflessioni sarebbe bello se tu avessi uno spazio ufficiale mediatico dico oltre questi dei social sarebbe bello che tu avessi uno spazio nella chiesa nella vera chiesa molto importante non lo danno a te non lo danno a me io non ho un programma televisivo dal 2001 esatto perché sai cosa sono io ingestibile in realtà io sono la persona più gestibile perché non vado mai contro nessuno però sono ingestibile grazie grazie ringraziamo Red mamma mia in quanti sono tre